Buonasera a tutti, eccoci qua con il quinto streaming di questa serie che io ragazzi veramente sto facendo per voi perché tutte queste persone che il venerdì sera ci incontrano e ci danno il privilegio di poter essere con noi ci stanno dando un valore aggiunto veramente infinito. Io sono felicissimo perché dopo Mattia, dopo Michele Damiani, dopo Giuseppe Casperino, Marco Di Marzio, questa sera abbiamo un grandissimo. E dovete pensare una cosa, io penso sempre all'incontro che ho avuto con Francesco come a un'eruzione vulcanica e cioè il nostro incontro è stato un incontro molto forte nel senso che noi abbiamo avuto un confronto che lo paragono un po' come un'eruzione vulcanica. Però io devo dire la verità, si parlava di Via degli Inferi, della mia ricostruzione 3D, però ogni volta che c'era uno scambio con lui, io non lo so, c'era qualcosa che veramente mi stava facendo capire che dall'altra parte avevo una persona di spessore e una persona che aveva qualcosa da dirmi, aveva qualcosa da trasmettermi. Io in genere dico a tutte le persone che penso che ne sappiano più di me, allora aiutami a dare un valore aggiunto ai miei lavori. Ma con Francesco devo veramente dire, ecco perché ho fatto il paragone con l'eruzione vulcanica, che questa eruzione vulcanica che succede? Dopo un'eruzione vulcanica nasce la fertilità, nasce il verde, nascono gli alberi, le piante, il terreno diventa fertile. Il nostro rapporto è stato esattamente questo, perché poi dopo questo confronto lui ha capito che io cerco sempre di mettermi in discussione, non considero mai concluso un lavoro, cerco di migliorarmi sempre, nel testimonianza del fatto che, pensate, ieri sera ho finito Circo Massimo, Francesco mi ha dato una rilettura diversa di una parte del Circo Massimo che io ho fatto in maniera diversa e io gli ho promesso, e lo prometto davanti a voi, che farò anche la versione con la posizione del pulvinar dall'altra parte. Quindi per dirvi, e Francesco, ecco, molti di voi non lo sanno, certamente è stato, anche per quanto riguarda il Circo Massimo, una risorsa preziosa e fondamentale. Se a giorni riuscirete a vedere il Circo Massimo ricostruito da me, è anche per merito di quest'uomo. E questa sera è ospite negli streaming di Flippetrof e io lo voglio salutare con tanta ammirazione e veramente lo ringrazio infinitamente per essere qui con noi questa sera. Buonasera Francesco! Allora, buonasera, saluto te Marco e tutti gli ospiti che ci stanno guardando. E dopo questa presentazione, cosa dire, ci siamo conosciuti, come dicevi tu, in una sorta di scontro, perché aveva messo un po', diciamo, aveva fatto una ricostruzione su un monumento che conoscevo molto bene, che era la via degli inferi a Cerveteri. E quindi non mi sono trattenuto, non sono riuscito a trattenermi. Ma, come ha detto lui, da questo incontro è nata una, non la definirei una collaborazione, ma uno scambio di idee continuo, perché Marco, come sapete bene tutti, è lui il vulcano in eruzione che in una maniera incredibile produce queste ricostruzioni archeologiche incredibili, e peraltro molto belle e poi con una quantità e una velocità stupefacente. Sì, beh... Ecco, adesso tu tiri fuori uno dei prodotti... Sì, che sarà l'oggetto della discussione. Però, ecco, io questa sera ho ideato un po' questa scaletta di domande, anche tenendo conto un po' delle curiosità di qualche alunno, qualcosa è collegato a determinate tematiche... Però tu non hai detto... Scusa che ti interrompo, Marco, però preso da questo episodio iniziale della nostra conoscenza non hai detto bene perché sono qua e su quale argomento si tratterà. Sì, questa sera si tratterà principalmente degli etruschi, della civiltà etrusca, nello specifico anche parleremo di un lavoro molto importante che ho potuto fare e realizzare grazie alla preziosa collaborazione di Francesco, parleremo della tua attività di archeologo, di etruscologo e curiosità legate proprio al mondo degli etruschi e parleremo anche, alla fine ma non meno importante, della splendida attività di ricostruttore storico di Francesco. Ecco, io due settimane fa ho avuto ospite Giuseppe Cascarino che mi ha fatto capire l'importanza della differenza tra la rievocazione storica e la ricostruzione storica e quando si fa ricostruzione storica si va ad un livello di immedesimazione, di rivivere un qualcosa ancora più profondo. E devo dire che veramente ho capito che Francesco è un ricostruttore storico, quindi è un artista ricostruttore perché come potete vedere alle spalle ci sono alcune delle sue opere il Micorinzi, etruschi, romani e quant'altro realizzate con una versione e un'attività storica veramente impressionante. Francesco parte proprio dai reperti archeologici e cerca di ricostruire poi quello che doveva essere magari un elmo Montefortino oppure un elmo Corinzio appunto, ma di queste cose poi parleremo nel corso dello streaming. Tanto questa sera, ecco Francesco, la prima cosa che ti volevo chiedere nello specifico, no? Ecco, nella tua attività di archeologo, nello specifico, che cosa fai? Ecco, dovete tenere presente una cosa. Nella descrizione del video, dello streaming, io ho inserito due link. Un link è il sito dove troverete tutte le cose che fa Francesco a livello di plastici, a livello di armature, a livello di elmi. E un'altra cosa è, attenzione, una parte del suo curriculum, e cioè tutto quello che Francesco ha fatto dal 90 oggi, ma non c'è tutto. Lui me l'ha detto proprio, guarda Marco, non c'è tutto in quel documento. Mi ha messo il curriculum. Però, però, sì, però, anche sì, sì, l'ho voluto mettere perché le persone almeno si possono fare un'idea di quello che tu hai fatto, cioè degli anni di scavo alle spalle che hai. e tuttavia, come diceva Francesco, in quel documento c'è una parte dell'attività archeologica che ha fatto. In realtà ha fatto molto di più. Però per me è stato utile per capire tutte le cose, una parte delle cose che ha fatto Francesco. Cioè, ci sono scavi veramente disparati che partono proprio dal 90-97 a Roma, nei dintorni di Roma, alla Storta, ricognizioni. Ecco, cioè, veramente, ha una cosa che mi ha colpito tantissimo, per esempio, è lo scavo che ha fatto Francesco nel 2005 ad Aosta, dove praticamente si è, hai scavato un villaggio celtico, mi sembra. E quindi, ecco, le persone tramite questo documento certamente possono capire lo spessore professionale di questa persona, oltre che artistico, perché Francesco, poi vedremo nel corso dello streaming, è un artista veramente incredibile. Parlaci un po', Francesco, ecco, della tua attività di archeologo, sicuramente io ho detto... Ecco, no, io vorrei dire questo, che non voglio fare una biografia, un'autobiografia, però voglio dire che il mio approccio con l'archeologia è rivolto molto verso la divulgazione di qualità, cioè quello che faccio, o gli argomenti di cui conosco, voglio che vengano conosciuti al meglio da più gente possibile. Nel nostro campo, purtroppo, ci sono argomenti che sono ritenuti troppo specialistici e di cui non se ne parla, cose incredibili, bellissime, che invece meriterebbero di essere divulgati. Per fare questo ci vuole un po' di parecchio impegno e molti non lo fanno. Questa visione, cioè gli archeologi che si danno quindi alla divulgazione non sono molti, ma questa... Ora, Marco ha parlato del mio sito Efesto perché proprio lì si vedono le ricostruzioni fatte per i musei che sono volte proprio a spiegare, a far capire alle persone, a chi è appassionato, come un archeologo raggiunge l'obiettivo di tutto il suo lavoro. Cioè, la ricostruzione è il coronamento del lavoro di ricerca archeologica e non tutti ci arrivano, molti si fermano diciamo alla fase della documentazione dei reperti, dei frammenti. La fase finale, quella della comprensione e della ricostruzione, quindi non viene spesso raggiunta. Ecco, il mio sforzo è stato colto anche dai musei che hanno accolto i lavori ricostruttivi che ho fatto, che faccio e li propongono quindi al pubblico. Ecco, quindi se siete appassionati a ricostruzioni di cose archeologiche, di monumenti, di oggetti, potete vedere un appunto in questo in questo sito una cosa diciamo professionale ma aperta al pubblico. di comunque di qualità museale, cioè non è pacotiglia, non sono cose diciamo di basso livello. Incredibile, cioè io vedo delle cose sul sito di Francesco veramente impressionanti, cioè veramente qui non è che fare la sponsorizzazione ma oggettivamente veramente è un luogo comune però veramente diamo a Cesare cioè anche di Cesare perché queste opere sono di una difficoltà estrema e lo dicevo a Francesco lo dico più volte a Francesco mentre il costruttore 3D ha in qualche modo il vantaggio di poter anche nascondere con alcuni mezzi informatici l'eventuale difetto l'eventuale cosa imperfetta un muro leggermente inclinato una casa storta un tetto non proprio perfetto ecco diciamo che Francesco questo non se lo può permettere e guardate la bellezza di queste opere io capisco Francesco perché vuoi vedere l'originale? sì e poi questo è l'originale un po' più scuro perché è ossidato dal tempo poi c'è la libertà di Francesco questo in questo momento questo è in mostra al Museo Nazionale di Napoli insieme ad altre cose sì e questa vedete è la realizzazione di Francesco quindi vedete c'è un'attenzione per i dettagli incredibile e ovviamente pressoché identico a quello che doveva essere ecco erano elmi questi se non sbaglio ho visto ecco la descrizione quarto secolo avanti Cristo vero Francesco? sì questo è un elmo lucano cioè la popolazione italica che abitava nell'attuale basilicata in grosso modo e che nello stesso periodo dell'occupazione greca cioè quando nel periodo in cui noi diciamo c'era la magna grecia è come se erano popolazioni diciamo italiche che stavano su un confine nel territorio diciamo adiacente alle grandi colonie greche quindi Metapolico Sibari insomma queste queste Pestum queste località più famose quindi è un elmo che avremmo potuto trovare anche appunto a Poseidonia visto che c'è stato il terreno esatto sì e qui qui invece ecco vediamo l'elmo l'elmo qui c'è un elmo romano originale questo clicca sopra che si ingrandisce vediamo no non si ingrandisce va bene insomma l'originale questa è la copia questo è uno dei rari esempi di elmo completamente conservato quello di prima e questa è la diciamo è la copia questo è stato trovato in Svizzera in un castrum che che presi il territorio celtico ed è del grosso modo dell'età di di Nerone Giulio Claudio sì e guardate cioè da questi reperti eccezionalmente conservati si possono che sono tantissimi noi in Italia non ce l'abbiamo sì perché non c'era bisogno dell'esercito nel periodo imperiale in Italia stavano tutte le truppe erano ammassate sui confini in particolare in Germania lungo il Reno e e le truppe presidiare difendersi dalle orde barbari che premevano dall'est europeo per venire in occidente ecco questi erano i nostri soldati certo eh sì 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 vedete quella sforza di filichetta sopra aveva il pennacchio e tra l'altro è quello che si intravede dietro di me vedete è lo stesso elmo questo qua quel pennacchio rosso è montato sull'elmo sì fantastico no tra l'altro ecco mi è venuto pure in mente se non sbaglio vero Francesco anche a Vindolanda sono stati trovati diversi reperti di frontiera no appartenenti ai soldati romani mi sembra addirittura pure delle delle lettere e questi elmi che eh stiamo vedendo qui ricostruiti da Francesco e mi rivolgo ai miei alunni sono quelli che abbiamo visto in qualche documentario in qualche però posso dire una cosa questi di Francesco sono molto più belli perché sono veramente curati nei minimi particolari impressionante è veramente impressionante vedete li metto le foto dell'originale quello più scuro e della copia che è sì sì ecco questo questo elmo è interessante perché da quella forma che abbiamo visto prima molto aperta con la faccia diciamo esposta verso il periodo tardo dell'impero noi siamo proprio nel periodo di Costantino sì il famoso eh imperatore che nel 313 fece la rese la religione cristiana perseguitata ma minerata ecco i soldati da quel tipo di elmo passarono a utilizzare a preferire questo altro che è molto chiuso molto più protettivo vedete anche una protezione per il naso e ed ha in questo caso è di un ufficiale quindi ha molte decorazioni che lo arricchivano e lo prendevano e la superficie poi era dorata oro proprio oro vero questo elmo è copiato dall'Oriente è un tipo persiano ah sì sì no mi sembrava pure correggimi se sbaglio mi ricorda un po' anche vagamente ehm quel quell'elmo sassone che ogni tanto mettono nei libri che si vede ogni tanto sai come la maschera di Agamennone un pochino mi ricordava anche questo tipo di impronta però probabilmente ecco sarà questo tipo poi rimane per il Medioevo per buona parte del Medioevo rimane questo tipo che appunto venne diffuso dagli antichi romani ora è interessante questa immagine guardate le decorazioni è interessante questo tipo di elmo perché non viene mai proposto nei film come elmo romano noi immaginiamo sempre quell'altro tipo bravo che quello dura solo due due secoli e mezzo poi forse tre poi viene soppiantato da quest'altro che a noi dà più un'impressione di Medioevo appunto invece era era tardo romano sì no ma Francesco ma guarda su questa cosa sfondi una porta aperta perché purtroppo a volte i mezzi di comunicazione contribuiscono a creare degli stereotipi nel senso che quando si fa un qualcosa sui romani ne parlavamo anche con Giuseppe Cascarino si utilizzano sempre gli stessi armamenti per mille e cento anni ultimamente ho visto che non è più così però fino a insomma una quarantina di anni fa quando c'erano i famosi Peblo come ecco vedevamo il film su Costantino e c'era ancora l'elmo di Traiano e quindi si commetteva ecco un errore storico c'era un po' più di attenzione un po' però insomma immaginare i soldati romani con questa con questo tipo di armamento sicuramente per molti sarà una novità certo certo qui vediamo l'elmo proprio classico dei gladiatori il mirmillone quello in ferro questo se non sbaglio mi sembra che è quello che è stato ritrovato a Pompei tipo io l'ho ricostruito è interessante la notizia che a Pompei oltre ai famosi ritrovamenti di 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 con tutti gli arredi venne trovata anche una a ridosso dell'anfiteatro una una sala con che era ricolma di armi di di gladiatore ce n'erano una ventina circa e e e poi questi questi elmi purtroppo questo ritrovamento è stato uno dei primi effettuati a Pompei quindi ci troviamo verso la seconda metà del 1700 i borboni quindi gli scavi non erano proprio come adesso molto precisi e attenti erano finalizzati a raccogliere e saccheggiare tra virgolette i reperti i ritrovamenti ecco purtroppo questi queste armi vennero raccolte e e in parte disperse cioè il re ne ha regalate alcune ad altri regnanti quindi ne abbiamo ad esempio a Londra abbiamo un elmo proveniente da Pompei ora non succederebbe mai ma venne regalato appunto da un borbone e poi ce n'è qualcun altro che ebbe la stessa sorte cioè venne regalato appunto come forma di cortesia dallo stesso re eh sì sì effettivamente c'è una cosa interessante è che i gladiatori erano numerosissimi perché in ogni in ogni città ce ne sono eh praticamente si facevano eh città importanti si facevano le le iludi gladiatori ecco qua ci abbiamo l'elmo a cui è stata smontata era smontabile la maschera la maschera di protezione la maschera che poi smontava la vetina di protezione certo certo era smontabile e quindi era eh in tutto il mondo romano erano erano numerosissimi i gruppi di gladiatori e combattenti c'erano in provincia dappertutto ed erano eh molto famosi presso il popolo perché tutti cercavano come noi adesso andiamo al cinema a vedere lo spettacolo e all'epoca si andava molto volentieri a vedere l'anfiteatro nell'anfiteatro della città questi combattimenti e poi c'è quindi i nomi dei gladiatori erano erano sulla bocca di tutti eh sì li troviamo anche statuine che troviamo spesso negli scavi che raffigurano le diverse armature dei gladiatori e sì addirittura bicchieri di vetro che aveva che avevano dipinte sulla superficie scene di di battaglia nel erano dei calciatori dell'epoca no esatto i gladiatori insieme ai ehm agli aurichi cioè quelli che guidavano nelle corse dei carri del del circo massimo ecco i gladiatori e gli aurichi erano i personaggi più famosi che che tutti di cui tutti parlavano facevano scommesse insomma c'era e di cui di molti conosciamo i nomi ed erano quelli più fortunati quelli più bravi erano ricchissimi si dicevano delle paghe eccezionali e come i calciatori da destra si si senti Francesco invece qui vediamo proprio un'armatura completa sempre nel tuo sito si questo è sempre un'armatura questo invece questo qui invece un soldato romano di età repubblicana cioè questo tipo di armi le indossavano prima della nascita di Cristo quindi nel periodo diciamo nei secoli prima di Cristo è un tipo di armatura diciamo di derivazione greca ma sostanzialmente modificata dagli etruschi era particolarmente efficiente i romani con queste hanno fatto diverse conquiste importanti tra con queste armature hanno conquistato praticamente tutta l'Italia e poi hanno 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 combattuto le repuniche sì 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 questo sembra quasi un elmo montefortino come? sembra quasi un elmo montefortino questo no no questo è un montefortino sì un montefortino di vario tipo adesso qui ne ho uno ecco qua vedete è simile a quello che sta nell'illustrazione e questo rappresenta è la copia di un elmo che è stato trovato proprio in un luogo dove avvenne una famosa battaglia la battaglia delle Egadi tra una battaglia navale che si svolse tra romani più romani più cartaginesi e in questa battaglia persero la vita tantissimi soldati vennero affondate numerosissime navi di cui sono state trovati i resti negli ultimi anni sì tra l'altro è stata una battaglia decisiva nella prima guerra è stata quella che è stata talmente importante ha distrutto la flotta quasi interamente la flotta punica quindi di cartagine che pose fine al conflitto esatto sì è stata proprio la battaglia decisiva poi c'è stato Annibale tutte le altre vicende belliche successive però quella è stata proprio una delle più grandi battaglie anche se poi alcuni dicono che per numero forse anche la battaglia mi sembra di capo ecnomo credo che sia stata ecco abbastanza imponente a livello di numeri però forse la battaglia dell'isole ma questa è impressionante perché sono state trovate proprio le tracce tangibili di questo scontro e il ritrovamento di armi e parti di navi in particolare i rostri di bronzo ne sono state trovate una ventina è una cosa che sono ritrovati difficilissimi da realizzare lì addirittura siamo arrivati a questi numeri e continuano a trovarsi elmi spade pezzi appunto di navi quindi la strage fu grandissima senti Francesco ti voglio fare una domanda fuori programma perché è una curiosità che ho e che chiedo spesso alle persone agli addetti ai lavori ed è legata proprio al numero di truppe che gli storici spesso dichiarano all'interno delle fonti cioè io vado a leggere Ariano che parla della battaglia di Gaugamela con un milione di persiani vado a leggere Curzio Rufo che non ce va tanto lontano insomma 500.000 ecco secondo te gli storici sotto questo dato sotto questo aspetto vanno presi per affidabili oppure spesso anche la stessa battaglia di Canne magari risente un po' di una qualche quotazione a rialzo per quanto riguarda il numero di truppe o di soldati coinvolti allora certamente soprattutto nel mondo romano l'esercito occupava un ruolo fondamentale nella vita dello Stato perché le guerre che venivano fatte continuamente di conquista avevano uno scopo fondamentale era quella era quello di rapinare le popolazioni confinanti e di tutti i loro beni e e quindi foraggiare l'economia romana che evidentemente aveva bisogno di risorse dall'esterno l'economia antica non riusciva a sopperire a tutti i bisogni non c'era un surplus ecco questo concetto sufficiente quindi era purtroppo bisogna ammettere che i romani campavano proprio di rapina e non solo e non solo di diciamo di risorse economiche ma anche di persone rese schiave e poste alla base della produzione di beni quindi gli schiavi servivano per lavorare per conto dei romani e quindi incrementare la ricchezza dello Stato quindi questa è una considerazione importante lo Stato quindi metteva moltissime risorse e molte persone a servizio dell'esercito quindi poi l'esercito era composto non solo dai cittadini romani dai soldati di professione romani ma anche da foltissime schiere di soci cioè di alleati e altre truppe che erano costrette per a schierarsi insieme a Roma in quanto alleati in diverse forme diverse formule però per far capire che questa macchina di era una vera macchina di produzione l'esercito serviva per foraggiare l'economia quindi molte risorse moltissimi uomini forse le cifre che vengono che sono state riportate dagli storici antichi probabilmente sono in molti casi sono esagerate ma questo conosciamo bene tuttora è l'effetto anche della 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 propaganda che le cronache gli storici dovevano dovevano praticare in favore dello Stato stesso di coloro che poi li proteggevano e li mantenevano perché poi insomma i vari governanti o personaggi politici importanti comunque poi chiedevano conto a questi scrittori ai vari scrittori di quello che scrivevano e divulgavano insomma quindi c'è sicuramente una grossa componente di propaganda per quali l'andistico certo certo eh sì probabilmente ecco è anche una una questione legata al fatto che magari gli storici tendevano un po' gli storici di parte ad enfatizzare una vittoria quindi o una sconfitta magari proprio perché magari l'esercito è stato sconfitto da un esercito molto più numeroso quindi l'attenuante se dobbiamo giocare al contrario no con canne però effettivamente ecco la battaglia di canne credo che insomma sia stata insieme ad Arausio se non sbaglio ecco una delle sconfitte militari più schiaccianti ecco per per ragioni sono state molte eh molto gravi che che sono state inflitte all'esercito romano né né diciamo negli oltre mille anni di storia sì sì francesco guarda stasera è come era prevedibile perché ovviamente quando siamo andati a finire sul tuo sito era inevitabile poi sconvolgere un po' la scaletta ecco diciamo io ho anche raccolto una serie di fotografie ecco che ho potuto vedere anche sulla tua pagina facebook ehm all'interno delle quali ecco in questa raccolta mia preferita insomma tra le tue foto che amo di più ci sono anche eh alcune foto eh nelle quali si vede ehm l'oggetto e vicino proprio la strumentazione come ecco eh questa questa meravigliosa immagine no? dove tu credo stia facendo una corazza eh ellenistica quindi una corazza del quarto secolo quinto secolo sì questa è appena iniziata peraltro sì è una corazza eh del tipo anatomico cioè che nelle sue forme va a a copiare l'anatomia umana quindi muscolare quindi si intravede qui i 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 ed era una vera e propria opera di di scultura scultura intesa come resa delle forme che è molto raffinata qui appunto è solo all'inizio come immaginavo che mettessi questa foto qua vicino c'è lo stesso oggetto finito adesso lo faccio vedere altrimenti non si capisce guarda un po' eh che meraviglia che poi allargare allarga un po' guardate che spettacolo è così piccolo non si vede però allarga aspetta aspetta vediamo vediamo eccolo ecco qua si vede la la cura eccolo ho cercato di fare una copia molto fedele dei reperti che che ci sono soprattutto però nel mondo greco nel mondo romano queste non si sono conservate ci sono solo delle immagini sculture vedete una vera e propria scultura ci sono c'è tutta la muscolatura e queste erano io ho cercato di di ricostruire proprio i fantastici i modi che usavano questi fabbri artisti per creare degli oggetti di di alta qualità stupende Francesco stupende tra le altre cose credo correggimi se sbaglio doveva essere un equipaggiamento molto costoso certamente questo lo avevano gli alti ufficiali i principi insomma persone che potevano permettersi dei costi molto elevati sì sì Francesco senti mentre poi proseguiremo un attimino perché poi ovviamente quando ci sono persone di questa preparazione di questa cultura è facile uscire dal seminato e parlare di tante cose tanti aspetti io vorrei farti una domanda che ho fatto anche agli altri miei ospiti ed è noi con gli altri ospiti abbiamo parlato magari di quel film nello specifico quanto posto può essere attendibile quanto ecco possa possa insegnare quanto possa dare a livello ecco di ritorno storico e io questa sera con te non voglio fare questo discorso perché magari forse anche un po' antivalido dirà quel film è brutto quel film però a livello di trasposizione cinematografica se ti dovessi sentire di consigliare un film storico sui romani o una serie tv cosa consiglieresti a un alunno che vuole conoscere la civiltà romana partendo però dal cinema è un po' perché non seguo molto queste le serie soprattutto quelle più recenti certo c'è stato un po' uno sforzo nel per utilizzare armamenti più fedeli nella serie come si chiama che hanno fatto l'anno scorso due anni fa che c'era la battaglia di Teodoburgo Barbarians quello di Netflix sì ho visto solo un paio di puntate e so per certo che sono state utilizzate in quell'occasione armi e armature fornite da un gruppo di rievocazione storica che quindi studia e cerca di munirsi di riproduzioni fedeli e quindi le hanno noleggiati al cinema e le hanno utilizzate questo ha permesso di avere dei materiali di qualità sicuramente molto elevata rispetto a situazioni precedenti in cui i reperti che venivano proposti durante il film erano creati solo per il film un po' fine a se stessi e quindi magari da costumisti piuttosto che da 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 per per associazioni o per persone che hanno un particolare interesse e magari dedicano tutta la loro vita a cercare di migliorarsi certo no francesco io adesso sto vedendo l'elmo nella sua impostazione classica nel senso che quest'elmo che tu hai ricostruito è quello che per la maggior parte delle volte vediamo su tutti i film dei romani il problema però che quest'elmo viene spesso veniva spesso utilizzato nei film di storia romana da Romolo fino a Romolo Augustolo e quindi qui c'era un'incoerenza ovviamente da parte della truppa cinematografica che non teneva conto in questo caso in realtà il tipo che fai vedere in realtà è poco conosciuto sì perché è più conosciuto quello di ferro che abbiamo visto prima sempre con la cresta rossa io perché ho visto la cresta quindi questo qui è una via di mezzo tra il monte fortino quello delle battaglie di cui abbiamo parlato prima delle guerre puniche che era di bronzo questa è una via di mezzo diciamo che è quello che genera l'elmo imperiale che è quello di ferro appunto quindi ci sono caratteristiche del monte fortino il materiale la punta in cima il collo ecco il collo già si è diventato più protettivo più grande come negli elmi di età imperiale era così grande perché a un certo punto si erano accorti che nella strategia del combattimento corpo a corpo si andava a cercare ci si protendeva per andare a colpire dietro sulle spalle e quindi di penetrare sulla nuca e nell'armatura dalla parte posteriore allora svilupparono questa protezione molto grande che diventerà addirittura enorme verso un paio di secoli dopo con questo scopo invece il monte fortino gli elmi più antichi non ce l'hanno proprio il collo solamente la c'è solo la calotta esatto è vero sì probabilmente hanno avvertito l'invincibilità dei legionari quindi bisognava colpirli un po' a tradimento forse diciamo che come dicevo prima il legionario era una macchina per fare soldi molto importante per lo Stato e quindi c'era una grande studio per per rendere più efficiente attraverso le truppe e proteggere quindi questi veri e propri professionalisti del combattimento ecco qui abbiamo gli elmi di età imperiale cioè lo sviluppo di quello di prima quindi abbiamo vedete sono di ferro uno è di ferro e l'altro no in realtà ecco e diciamo che questo dovrebbe essere quello a sinistra l'elmo tipico l'elmo imperiale tipico dura due secoli quindi e oltre quindi è stata una impostazione estremamente efficace sì senti Francesco ma ognuno ha un po' una teoria una visione legata al fatto che poi ad un certo punto la lorica segmentata è caduta a disuso e la lorica amata è ritornata un pochino l'armatura più utilizzata ma perché secondo te ad un certo punto c'è stato questo declino di questa forma di equipaggiamento ecco spieghiamo cos'è la lorica segmentata è quella e la amata la segmentata è quella costituita come dice il nome stesso da dei segmenti delle lamine molto lunghe che sovrapposte come fosse per dare un'idea una serranda di un negozio per dare un'idea insomma delle lamine orizzontali che cingevano e poi avevano degli snodi e permettevano al soldato di muoversi e anche delle protezioni molto grosse sulle spalle e sicuramente questa comunque hanno convissuto la lorica amata è quella segmentata non venne mai abbandonata la amata la amata è quella che invece è costituita è la maglia di ferro quindi costituita da piccoli anelli di ferro che in una sorta di tessuto vanno a costituire la una sorta di di vestito diciamo da un certo punto di vista è più comodo dell'altro tipo di armatura più rigida però comunque pesa molto molto pesante perché sono migliaia di anelli di ferro anche se sottili ma poi vanno poi a costituire un peso non indifferente ecco a un certo punto con ogni probabilità intorno alla metà del terzo secolo dopo Cristo quindi nell'età medio tardo imperiale c'è stata la necessità di semplificare anche l'armamento ma soprattutto alcuni dicono per per motivi di costruzione cioè era troppo laborioso costruire pure rigide troppo in pezzi unici c'è un unico pezzo di ferro per esempio questo elmo appunto imperiale che il questo che sta a sinistra questo sarà costituito da cioè questo saranno 30 o 40 pezzi assemblati compresi i chiodi quindi molto modulato è molto difficile vi assicuro perché l'ho fatto fare in modo che tutti questi pezzi coincidano si vadano a incastrare perfettamente è un lavoro molto impegnativo loro lo facevano in sé praticamente comunque è sempre un grosso impegno a un certo punto per semplificare sono passati altri tipi di elmo molto articolati infatti questo qui Francesco che indossi forse magari sbaglio forse è successivo a questi questo questo qui è una ricostruzione ipotetica fatta da un archeologo inglese che ha trovato dei frammenti di questo elmo che è una sorta di sì è l'evoluzione di quello precedente di quello imperiale quindi ha una calotta in questo caso unica spesso invece è fatta da due metà due metà inchiodate che facilitava sicuramente la lavorazione ecco poi no io questo questo elmo l'ho visto molto simile per questo che ti ho chiesto successivo nel film King Arthur c'è una scena dove si vedono si vede un patrizio nobile romano che abitava in Britannia e a un certo punto del film compaiono due soldati alle dipendenze di questo nobile proprietario terriero della Britannia e indossavano due elmi molto simili a questo qui però il film lì in questione è ambientato se non sbaglio insomma al quarto quinto secolo perché si rifà alla leggenda di Artorius Artorius Cactus mi sembra una cosa del genere che mi sembra questo questo qui è un elmo del fine terzo secolo probabilmente è durato anche tutto il quarto secolo in uso questo perché pare che abbia avuto una vita abbastanza lunga e travagliata questo esemplare questo l'ho voluto fare perché l'originale è molto mal ridotto e mancante di pezzi quindi questa è una ricostruzione in parte ipotetica fatta sulle ipotesi di questo archivolo inglese comunque capace e è interessante questo questo tipo valeva la pena di farlo perché in molti dipinti e raffigurazioni di tardo antiche quindi parliamo di parto e anche quinto secolo si vedono rappresentati questi elmi con questa con questa apice particolare sormontata da penne questo ora è senza penne ma si possono montare l'originale aveva delle penne verticali e un bel cimiero ricco ecco e questa era la base e poi ecco quello che volevo dire si vede come il collo è staccato si intravede il collo non è un unico pezzo con la calotta quindi anche il frontale vedete è staccato e in genere invece quel tipo di frontalini erano attaccati erano un unico pezzo erano fatti solo a rilievo erano solo a rilievo ecco quindi qui invece commettendo vari pezzi non molto precisi neanche gli originali erano precisi come quelli precedenti e probabilmente semplificavano molto la lavorazione e il costo quindi certo erano più insomma economici e qui abbiamo un altro elmo beh qui torniamo indietro qui abbiamo un elmo etrusco e quindi adesso entriamo visto che ci siamo fatti la prima ora di ricostruzione storica quindi il lato anche artistico immenso di Francesco ecco qui entriamo passiamo dai romani agli etruschi quindi Francesco ci ha dato proprio la palla al balzo per passare all'altro argomento principale dello streaming che è appunto la città etrusca ecco questo ci sono pochissimi elmi di questo tipo questo è tipicamente etrusco e tra l'altro è stato protagonista delle cronache questo elmo qui qualche mese fa perché da Villa Giulia durante un lavori di restauro uno di questi elmi ritrovato a Pulci ha restituito un'iscrizione che era rimasta nascosta sotto le incrostazioni non era stata vista e questa iscrizione insomma ha fatto un po' di diciamo di di cronaca i più appassionati e più attenti l'hanno sicuramente ricorderato e questo è un elmo proprio tipico degli etruschi non ce l'hanno le altre popolazioni eppure e quindi probabilmente era stato proprio un'invenzione dei nostri amati progenitori che volevano distinguersi dalle altre popolazioni e cercavano pure un elmo diciamo anche protettivo questo è all'origine probabilmente dell'elmo Montefortino che poi ebbe molta più fortuna del quarto secolo insomma l'ho provato come vedete è molto comodo insomma non è male anzi è anche bello devo dire adesso se volete ve lo faccio dire certo anche perché così lo riconoscete ecco qua eccolo 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 beh sì bellissimo esteticamente è un po' il paranuga sì sì paranuga che è protetta qui poi l'orecchio era protetto da un disco oppure in un caso un paio di casi è stata trovata questa palmetta decorativa che ho voluto fare se ingrandisci si vede che era mi piaceva questa e allora l'ho fatta perché mi sembravano anche molto complimento insomma veramente bello stupendo Francesco cioè questa queste sono opere d'arte veramente stasera abbiamo veramente l'occasione di parlare oltre che con un grande archeologo etruscologo con un ricostruttore storico che fa delle opere incredibili non sono io a dirlo è universalmente riconosciuto veramente anche come un grande artista di queste splendide opere senti Francesco ma una curiosità ma come come è nata la passione ecco in particolare per la storia etrusca per la storia romana beh diciamo che nasce intanto dal fatto di abitare in un territorio archeologicamente eccezionale che è questa di Roma e del Lazio che 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 non può far altro che stimolare continuamente la curiosità di quelli che sono più propensi a osservare e lo strabordare di testimonianze insomma sin da piccolo mi ha incuriosito e poi sì perché insomma Roma è piena di di musei poi devo dire che quindi è una cosa è una passione che si è unita anche alla capacità comunque di manuale di realizzare degli oggetti quella invece è una diciamo è un'eredità genetica della famiglia perché i miei avi insomma da generazioni a generazioni sono stati artigiani di di varie cose quindi ci vuole anche un po' ovviamente l'estro è un po' è innato e io non so come ho unito le due passioni cioè la storia e l'archeologia con con la manualità ma non tanto per scimmiottare insomma per fare delle copie così tanto per averle a me incuriosiva il modo le modalità con cui le tecniche con cui gli antichi non riuscire a realizzare certe cose quindi la prima curiosità la prima molla è stata quella di di capire come potessero fare quali fossero i materiali le cose e ho avuto la funzione appunto di trovare anche in famiglia e nell'ambiente insomma dove dove abito perché io ho abitato un quartiere artigianale quindi da piccolo andavo dal calzolaio dal fabbro dall'officina dal falegname insomma i miei sì 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 mi suscitavano enorme curiosità questi lavori questi lavori che poi si può dire sono spariti e quindi nell'ultima testimonianza l'ho raccolta io un bambino che osservava questi uomini ormai da soli che non trovano nemmeno degli aiutanti che man mano hanno giusto e io ho un po' osservato e raccolto quello che potevo capire quello che potevo utilizzare insomma sei stato un po' come l'imperatore Claudio con la lingua etrusca visto che è stato l'ultimo imperatore che conosceva l'etrusco tu sei riuscito a vedere i segreti di questi ultimi grandi uomini artisti e artigiani io ho cercato di capire cosa si era tramandato era sopravvissuto attraverso questi artigiani degli antichi degli saperi più antichi quindi applicandoli per ricostruire altre cose e poi pian piano questi esperimenti queste cose qui sono diventati anche una professione perché non ha riguardato gli armamenti perché qui vediamo anche ad esempio un plastico quindi altre opere sì perché in realtà gli armamenti sono anche una passione più recente in precedenza ho fatto e continuo a fare ricostruzioni di monumenti archeologici quindi dai ruderi a tirare su e ricostruire tramite lo studio e chiaramente le indicazioni e le discussioni con colleghi più specialisti dei singoli ambiti è a ricostruire i monumenti per esempio questa qui è una basilica che non esiste più cioè questa è venuta giù questa a Ravenna più precisamente a classe classe era il porto di Ravenna nel porto imperiale e c'era un abitato piuttosto esteso ed importante e aveva varie chiese la città la città poi con la caduta dell'impero bizantino in Italia e varie altre vicissitudini la città venne abbandonata e questa chiesa crollò venne scoperta solo negli ultimi anni negli ultimi decenni e rimase solo l'impronta solo i pavimenti e le fondamenta delle possiamo vedere ecco questo edificio facendo confronti con gli altri simili in particolare Santa Pollinare in classe questo è uguale che è molto famosa e conosciuta per i mosaici ecco questa qui quindi è stato possibile tramite questi confronti ricostruirla e riportarla in vita questo comunque è un piccolo plastico è lungo sarà 60-70 cm non è grande quelli sono i pavimenti che sono stati trovati e che ho ricollocato nella ricostruzione ecco quindi questo è un esempio di come un oggetto un edificio non più esistente riprende vita completamente certo questo plastico ha quasi 20 anni quando ancora il nostro Marco aveva gli strumenti informatici per fare quello che attualmente fa ottimamente questo è un plastico reale e lui lo fa forse anche meglio con il computer con i programmi di grafica 3D pensate comunque che un tempo insomma i musei traboccavano di plastici proprio perché era l'unico modo per rappresentare la realtà devo dire che in certi casi alcune foto che ho fatto sembrano modelli 3D virtuali come questo questo queste sono opere d'arte stanno su un altro livello veramente perché quelle colonne sono 6 cm quelle colonne sì sì e poi ecco no quello che si prende anche mi piace di questo plastico anche l'intensità dei colori la cura delle sfumature che vanno a riprodurre quel determinato materiale e questo credo che sia un elemento molto importante per questo che io questa sera ho voluto condividere con voi questo lavoro di Francesco perché di solito quando vediamo i plastici nei musei per quanto anche belli e coinvolgenti non è sempre così però a volte troviamo dei plastici privi della colorazione e invece Francesco ecco anche in questo plastico ha tentato anche di dare una restituzione grafica e proprio a livello sì ho utilizzato i piccoli frammenti che sono stati trovati sul posto per di cui si era capita esattamente la funzione e la forma ricollocandoli nell'edificio e quindi questa è una ricostruzione direi molto fedele sì sì bellissima qui torniamo agli elmi ecco gli elmi e qui c'è di nuovo ecco voglio un attimino porre anche un po' di attenzione sui plastici di Francesco perché veramente sono ricostruiti con una attenzione per i particolari che è veramente fantastica tra le altre cose io non te l'ho detto Francesco però con i miei alunni solitamente ecco in collaborazione con la collega d'italiano proviamo sempre a fargli fare un plastico e l'ultimo che abbiamo fatto fare alla classe è stato quello di un borgo feudale quindi ovviamente prenderemmo spunto dai tuoi lavori perché sono veramente meravigliosi senti Francesco questo plastico che cosa riproduce ecco questa è una parte della reggia di Teodorico ah beh che fu il primo re d'Italia dopo la caduta del dell'impero romano d'Occidente Teodorico fu il primo che si proclamò re di tutta la penisola e volle costruirsi la sua reggia proprio Ravenna Ravenna era importantissima come saprete anche grazie ed è famosa grazie per importanti testimonianze che lasciarono intorno a quel periodo prima e dopo con i mosaici eccezionali che tutto il mondo ci invidia ecco purtroppo la reggia di Teodorico subì una bruttissima la bruttissima sorte di quasi tutta la la città come la chiesa di prima di San Severo praticamente venne rasa al suolo in parte perché crollò in parte perché venne demolita e sono rimasti dei piccoli pezzi che affiorano nella città moderna in alcune zone non costruite questi piccoli pezzi con un grande sforzo e con ricerche fatte ultimamente hanno consentito di 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 capire quale potesse essere la forma di questa e di identificarla soprattutto questa reggia ora una cosa molto interessante è questa che qui è rappresentato l'arco d'ingresso cioè praticamente entravano dall'esterno nel cortile nel grande cortile questo è il cortile appunto che guarda verso l'esterno però non verso la reggia la reggia ce l'apremmo alle nostre spalle ecco e c'era un grande cortile colonnato vedete un portico con con colonne alla base e poi un un corridoio finestrato ora la cosa interessante semi colonne corinzie se non sbaglio quelle sono colonne intere che poi sono state chiuse gli archi sono stati murati lasciando un corridoio chiuso con quelle finestre grigie ecco sopra abbiamo questo corridoio finestrato ora quello non è frutto della fantasia ma ci siamo accorti mi sono accorto io che che quello veniva perfettamente la ricostruzione in questo modo utilizzando la raffigurazione della reggia del palazzium che sta a Santa Pollinare Nuovo i famosi mosaici che conoscono cioè tra i più famosi c'è proprio la rappresentazione del palazzo imperiale c'è scritto proprio palazzium e si vedono questi archi a due ordini sono andato a verificare e si incastrano perfettamente c'hanno le misure le proporzioni sono quelle ah fantasia cioè tu lo sai che adesso hai un altro impegno in più con me sì di questa eh questo è questo è vabbè qui hai trovato solo questa foto e c'è tutto tutto il palazzo dietro che è spettacolare eccolo qua eccolo qua l'avevo presa infatti mi ricordavo considerate questa meraviglia non c'è più nulla è venuta fuori studiando fantastico fantastico cioè dalla parziale si è riuscita a capire com'era perché la sala imperiale quella centrale quella molto grande quella copiava la curia eh di Roma sì era la sede del senato comunque quella che poi divenne anche di rappresentanza per l'imperatore sì e la sala imperiale di Treviri Treviri insomma che si conserva tutta interamente dall'età romana spettacolare un monumento eccezionale bellissimo e che nelle proporzioni guardando la pianta è identico al nostro a questo che è questa ricostruzione che io ho utilizzato per 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 fare l'ipotesi costruttiva che calza perfettamente cioè poi ogni elemento poi condiziona quello di fianco quello vicino è difficile fare se fai uno sbaglio poi te lo porti dietro e alla fine non funziona invece se l'ipotesi è buona poi non si danno fastidio l'uno con l'altro ecco i vari pezzi senti Francesco ma quei due ambienti che stanno alle spalle dell'arco quello che ti fa entrare nel cortile per intenderci che stanno sopra le finestrelle che hai visto all'interno della chiesa quelle grosse sale col tetto che cosa sono quelle grosse sale e vabbè poi l'interpretazione chiaramente è difficile però sicuramente erano ambienti molto grandi che mancavano alla sala no io te lo chiedo Francesco lo sai perché te lo chiedo perché quando ho ricostruito la casa di Augusto mi ricorda vagamente un po' due strutture gemelle una a destra e una a sinistra e quella a destra veniva utilizzata per le udienze insomma per la vita pubblica invece quella a sinistra era invece la sezione dove c'era Augusto con la famiglia insomma destinata alla vita privata allora magari ho pensato a destra Teodorico aveva organizzava insomma una sorta di ambienti di rappresentanza e a sinistra invece ecco vita privata pensavo che potesse avere secondo me secondo me quelle all'inizio sono le parti residenziali perché poi invece in questa parte più vicina a noi intorno alla sala di rappresentanza gli ambienti sono più piccoli e probabilmente sono di servizio alla parte pubblica quindi quelli invece hanno proprio una struttura ci sono anche i bagni quindi probabilmente quella era dove abitava l'imperatore il re perfetto fantastico fantastico no veramente questo sta al museo questo sta al museo di Ravenna di classe e veramente se andrò al museo di Ravenna andrò certamente a vedere e qui torniamo vedete agli elmi questo è l'elmo in lavorazione che abbiamo visto sul sito questo è sì questo qua si vede la struttura insomma pseudo medievale esatto e qui vediamo sempre vedete gli attrezzi dell'artista no che sta creando lì ci sono delle lì la si vede l'incudine che è un'eredità di questi di questi vecchi artigiani quell'incudine lì credo che ha 120 anni se non di più è molto antica incredibile veramente Francesco fantastico fantastico ecco io adesso mi sposterei invece se tu sei d'accordo ma sei sicuro che ci stanno sopportando ancora che abbiamo del pubblico sì sì allora tu pensa una cosa io dico sempre i miei video di solito sono dei diesel partono sempre molto a rilento ti basti pensare mi ricordo quando pubblicai il mio video sulla dinastia Giulio Claudia sempre fatto con il sistema che conosci quindi 3D poi realizzazione di queste figure stilizzate in movimento e mi ricordo che questo video appena pubblicato il primo giorno fece non più di 15 visualizzazioni una cosa che è quindi mi ha dato tanto importanza e detto vabbè poi se lo vedranno a chi gli serve se lo vede perché tanto sta lì oggi questo video a parte quelli che hanno superato le 100.000 visualizzazioni che sono una tutta ha superato le 50.000 visualizzazioni ed è il video più visto su youtube sulla dinastia Giulio Claudia quindi Francesco preparati è capace che tra un anno certamente ti conosceranno ancora di più di quanto ti conoscono forse forse anche questo veramente streaming che stiamo facendo che è di una bellezza disarmante per una serie di motivi veramente e io adesso proprio perché mi sento un privilegiato di averlo fra noi questa sera ovviamente non posso non parlare della collaborazione di una delle collaborazioni che abbiamo fatto insieme e nello specifico è la collaborazione legata alla ricostruzione 3D dell'ara della Gina quindi di questo tempio a Tarquinia molto importante e voi dovete pensare ecco che io parlai a Francesco del fatto di voler ricostruire Tarquinia e ovviamente immancabile non poteva non mancare l'ara della regina e questa sera Francesco ce la potrà spiegare questa era della regina perché è importante questo tempio è importante perché poi ovviamente Francesco mi correggerà se sbaglio è il più grande tempio etrusco che sia stato mai scoperto e questa sera Francesco ce lo commenterà e lo dico proprio in pubblico perché veramente non mi stancherò mai di dirlo se ha avuto tanto apprezzamento è stato molto apprezzato e lo vedete così di uno alla realtà io lo devo a quest'uomo perché mi ha dato tutte le indicazioni più importanti peculiari e preziose per arrivare a questo livello proprio di resa realistica e questa sera Francesco ci commenterà insieme l'ara della regina eccolo qua Francesco parlaci un po' di questo tempio ecco e metti l'immagine ce l'hai? lo vedi? no non è uscito allora guarda facciamo subito interrompi condivisione quindi andiamo su condividi rifacciamo condividi schermo condividi schermo finestra scheda di chrome eccolo qua eccolo qua Francesco adesso lo vedi ecco questo è il tempio più importante stoppami poi eh quando torna torna ai resti vado ai resti sì ecco qua fermati qua allora questo è il tempio più importante di Tarquinia che come sapete era una città fondamentale Francesco mi dicevi mi dicevi se qualcuno ci stava seguendo e indovina ci è arrivato un saluto da Chicago hello from Chicago penso abbiamo un spettatore da Chicago hello hello allora beh parlerai italiano perché altrimenti non potrebbe allora dicevo questa il tempio della cosiddetta ara della regina che è un nome ovviamente moderno è un tempio il più importante di Tarquinia la città importantissima etrusca che trovava in questo tempio il culto principale le dimensioni lo testimoniano è veramente grande si è costituito adesso le misure non le ricordo a memoria però ha un grande podio costruito a blocchi squadrati e con che destinato nella parte anteriore a lasciare una sorta di piazza soprelevata antistante al tempio dove avvenivano come anche nel mondo greco i sacrifici e i riti legati al alle cose religiose che avvenivano infatti nel tempio non si facevano come sapete attività religiose all'interno all'esterno c'era quindi l'altare e i sacerdoti ufficiavano i riti il tempio invece era costituito da da una cella chiusa che aveva solamente una porta d'ingresso davanti c'era un un colonnato costituito da poche colonne vedete molto distanziate fermati qua ferma ecco la prima cosa che balza agli occhi rispetto ai templi greci o anche romani di tradizione greca di derivazione greca è la grande distanza che c'è tra le colonne vedete questo perché perché il tempio la parte superiore era interamente realizzata in legno quindi il legno è più leggero è più elastico e permette di fare degli architravi molto ampi chiaramente con la pietra questo non poteva avvenire perché l'architrave era molto più pesante e fragile abbiamo quindi un tempio questo della tradizione etrusca etruscolatina direi che quindi ha una una sua fisionomia ben precisa con diciamo delle varianti ovviamente non è molto non è troppo rigida la sua impostazione però la caratteristica principale appunto è che la parte di sopra la parte superiore dall'impostazione del tetto in su era totalmente in legno ecco fermo qui fermo qui ecco qua si vede i capitelli scuri che sono ancora di pietra e poi le decorazioni e si intravede anche la parte di legno all'interno vedete grosse travi che sorreggono con un'intelaiatura rigida ancora non esisteano le capriate le capriate sono quelle che caratterizzano i tetti diciamo moderni dall'età imperiale diciamo romana in poi cioè quella sorta di v di pali messi a v in obliquo che sorreggono le travi inclinate del tetto ecco qua invece vedete tutti invece solo travi messe in verticale perfettamente in verticale o perfettamente in orizzontale ecco questa è una struttura ancora semplice ma molto più pesante perché il sistema più evoluto permette invece di mettere delle travi leggere più leggere ecco quindi il tempio etrusco appare come una struttura pesante perché questo tetto è effettivamente è gravoso siccome appunto era tutto in legno doveva essere protetto dalle intemperie quindi oltre a coprire le travature con le tegole quindi sulle due falde inclinate del tetto la terra costa veniva usata anche per coprire le parti laterali quindi per proteggerle dall'acqua che delle intemperie ecco se possiamo adesso stiamo entrando diciamo nella nella laterale ecco adesso torno indietro i muri erano fatti in blocchi di 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 pietra quindi erano comunque solidi e non sono stati trovati perché sono stati rubati successivamente per essere riutilizzati se torniamo a vedere il tetto la parte frontale ecco non dentro ma fuori ecco ecco vediamo un po' ti blocco bloccati bloccati ecco allora come dicevo la le travi sono quindi protette da queste lastre di terracotta le lastre per sin dal dal periodo più antico vennero utilizzate vennero decorate per arricchire insomma l'aspetto del del tempio che comunque era un edificio importante monumentale e doveva rappresentare la ricchezza della potenza della città che lo aveva dedicato cioè il tempio era una sorta di edificio di rappresentanza gli stranieri quando venivano nella città dovevano andare a rendere omaggio alla divinità e lì incontravano potevano misurare la ricchezza e la potenza della città che aveva dedicato alla divinità tutte le sue ricchezze più evidenti un po' come il mondo greco dove venivano accumulate nel tempio anche le gioielli vasellami preziosi in metalli preziosi e comunque divenivano anche depositi dell'erario come anche a Roma cioè il tempio è il punto dove l'opistodomo del partenone dove c'era la tesoreria la parte il tempio di Saturno c'era l'erario ed era uno dei tempi più centrali quindi il tempio è il luogo per antonomasia dove si accumula e si espone la ricchezza proprio per sottolineare la potenza del popolo è un luogo di rappresentanza sostanzialmente oltre che di religiosità o allora le decorazioni quindi pian piano diventano sempre più ricche più sontuose il tempio di dell'ara della regina quindi è estremamente decorato e articolato noi tutti conosciamo la bellezza della della lastra decorata ad alto rilievo con i cavalli alati sono eccezionalmente belli e si riferiscono all'edificio di quarto secolo avanti Cristo qui lo vediamo sul pannello angolare presentato nella ricostruzione poi c'è pure un aneddoto legato ai cavalli alati perché voi dovete pensare che quando io ho l'onore il privilegio di collaborare con queste persone che hanno una preparazione filologica storica archeologica io ovviamente cerco di non lasciare nulla al caso chiesi proprio a Francesco insomma io volevo dire proprio l'esatta posizione la corretta posizione di questi cavalli alati e Francesco mi disse proprio guarda mettili lateralmente e infatti abbiamo messo questi cavalli alati laterali e poi dall'altra parte c'è ci sono sempre dei cavalli però il fantino perché la persona che conduce questi cavalli ha una colorazione diversa ovviamente è una cosa che salta all'occhio poi abbiamo parlato anche di questi tetti spioventi questa caratteristica peculiare degli edifici delle architetture trusche che si ritrovano poi anche nelle architetture religiose sì ecco questi edifici antichi avevano lo spiovente del tetto molto prominente vedete quanto è lungo quanto dista dalla parete questo serviva per proteggere le murature dall'umidità dalla pioggia che cadeva e schizzava dal pavimento oppure dalla pioggia obliqua che poteva danneggiare comunque un'edilizia solida ma comunque delicata perché è vero che era fatta di blocchi di tufo però erano ricoperte con un intonaco che un intonaco bianco e poi dipinto come si vede in questo caso bianco e rosso c'erano anche alcuni che avevano decorazioni figurate quindi dei motivi e decorativi ecco questi intonaci non erano evoluti come quelli più recenti con l'acqua si potevano rovinare si potevano disgregare con l'umidità e allora hanno questi tetti molto prominenti che sono tipici ma sono tipici di tutte le architetture delicate prima facevo l'esempio a Marco delle delle architetture giapponesi le pagode eccetera che sono anch'esse fatte di legno e di materiali comunque delicati e sono caratterizzati da queste da questi spioventi lunghissimi ecco ecco mi premeva di dire sì sì io lo dico agli allunni prendete appunto perché quindi i tetti degli edifici etruschi avevano questi spioventi così belli pronunciati e lunghi perché dovevano preservare gli intonaci che all'epoca degli etruschi non avevano la consistenza degli intonaci moderni ecco volevo dire che i frammenti delle decorazioni che sono stati trovati negli scavi non sono insomma erano piuttosto scarsi però sufficienti per rappresentare per rappresentare le varie fasce decorative di tutto il tempio per cui i vari pezzi li abbiamo messi nel giusto ordine conservavano anche tracce della colorazione e grazie io poi mi occupo anche di templi etruschi per lavoro quindi è stata un'occasione con Marco di dare di ricostruire in maniera efficace e bella il tempio nella sua nel suo aspetto direi molto verosimile quindi i colori che vedete non sono di fantasina non abbiamo qua una ricostruzione come ce ne sono tante in giro che lasciano sempre il dubbio che siano finte comunque delle cose opinabili qui la ricostruzione raccoglie tutte le conoscenze che si hanno su l'architettura etrusca è veramente fedele e devo dire che per la prima volta Marco ci ha dato la possibilità anche a noi archeologi di vedere il tempio tirato su con i suoi colori con i suoi volumi con la sua verisimiglianza quindi grazie questo è un vero tempio non è ripeto non è di fantasia era così sì sì poi noi abbiamo cercato veramente di non lasciare nulla a caso perché mi ricordo verso le battute finali del processo di lavorazione che Francesco a un certo punto mi dice guarda adesso fai un tridente fa il tridente sopra la decorazione ho detto perché abbiamo scherzato sul fatto che insomma gli uccelli pure all'epoca potevano fare qualche danno qualcosa e quindi pure questi templi etruschi ovviamente avevano le protezioni come troviamo oggi nei balconi che impediscono ai volatili ecco di camminare sui cornicioni o quant'altro e anche gli etruschi ovviamente avevano escogitato creato questa sorta di protezione che non si vede forse nel filmato però su un altro filmato che trovate all'interno del canale proprio dedicato alla ricostruzione 3D dell'ara della regina si vedono ecco qui si intravedono vedete eh Francesco te li ricordi che li abbiamo fatti sulle cornici su tutte le parti adatte per potersi appoggiare i piccioni che all'epoca evidentemente infestavano già le città degli uomini sulle cornici sulle parti diciamo eh adatte a fare da eccoli eccoli Francesco ci mettevano una sorta di forchette delle forchettine accuminate di di bronzo e e non lasciavano nessuna parte diciamo libera era praticamente un filo spinato continuo sì 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 la protezione ecco vedete che decorazioni molto fitte e estremamente colorate usavano il rosso il nero il bianco successivamente anche l'azzurro e il verde e dovevano essere di grande impatto perché considerate questa è una città importantissima all'epoca era tra le città più importanti del Mediterraneo occidentale chiaramente non parliamo di 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 egizi oppure di dei greci che magari avevano una un impatto e una resa più spettacolare forse anche più ricca come come resa appunto architettonica e decorativa però sicuramente nel Mediterraneo occidentale gli etruschi rappresentavano la popolazione più evoluta più ricca più dal punto di vista artistico più avanzata e dovevano impressionare tutti cioè chi veniva a Tarquinia doveva rimanere a bocca aperta e vi assicuro che ci rimaneva perché nel resto in campagna nei paesi nelle altre popolazioni che venivano al cospetto di questo edificio questo costituiva una novità una cosa inimmaginabile una ricchezza di colori di forme ma anche di una cosa che non si percepisce forse bene questo edificio era imponente era gigante era gigantesco quindi chi era abituato alla casupola alla capanna molti abitavano nelle capanne si trovavano davanti questa che era una la residenza degli dèi ecco le forchettine vedete si 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 vedevano prima eccole qua si eccole qui qui vediamo pure questo dove veramente era qualcosa che di inaspettato si 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 beh gli stessi cavalli alati ecco ti fanno percepire lo splendore di questo edificio e e poi ovviamente vabbè noi di Tarquinia abbiamo le tombe che ci hanno restituito tanto ci danno un'idea di quello che doveva essere lo splendore proprio di Tarquinia etrusca e in effetti ecco ad esempio qui abbiamo una tomba no che ho ricostruito io ogni tanto dovete sapere che chiedevo a Francesco Francesco ma questa figura che cosa rappresenta quindi e ho scelto ecco di ricostruire fra le tombe insomma più importanti più famose forse quelle più conosciute quelle più conosciute e una di queste era la la tomba dei dei giocolieri Francesco no queste tombe di Tarquinia che rappresentano la vita quotidiana eh sì Tarquinia tra le sue ricchezze ha conservato ha restituito le le famose tombe dipinte ecco fermati qua ecco le tombe dipinte sono eh delle camere sotterranee scavate in una roccia eh calcarea molto friabile che si chiama macco questo macco è a differenza del tufo di Cerveteri che è estremamente è lavorabile e al tempo stesso solido quindi adatto ad essere rifinito perfettamente questo macco invece si sbriciolava era polveroso era fastidioso anche per regolarizzare il tutto quindi intonacavano le pareti con questi impasti che erano un po' i primordi degli intonaci erano un po' di argilla un po' con degli inizi di gessi e calcine varie così per semplificare e così intonacando le pareti ottenevano queste superfici bianche e continue che si prestavano perfettamente alle decorazioni ora cosa mettere sulle pareti di una tomba ovviamente delle rappresentazioni che collegate al mondo dei vivi oltre che a quello dei morti ecco e qui si vuole rappresentare si è voluto rappresentare in queste tombe che risalgono addirittura al VI e V secolo a.C. delle scene di vita e contemporaneamente di morte cioè di collegamento con i defunti ecco fermo qua e allora intanto la tomba è una camera che aveva all'interno i letti di legno su cui venivano appoggiati a vista quindi non dei sarcofagi ma in genere c'erano anche i sarcofagi chiusi però in genere venivano messi appoggiati sul piano di un letto e i morti stavano lì li chiudevano dentro la camera e sigillavano tutto ecco questi li rappresentavano venivano messi con il corredo che erano basi e altre ricchezze e questa stanza in molti casi rappresentava con ogni probabilità un padiglione funerario cioè che cos'è questo padiglione funerario? è una tenda che con ogni probabilità veniva proprio montata realmente nel momento in cui si faceva il funerale il funerale durava un po' di tempo qualche giorno perché bisognava aspettare i congiunti i vari invitati al funerale che arrivassero poi si organizzava appunto in un'area esterna alla tomba probabilmente l'area del del culto del morto questa questa scacchiera che si vede sul tetto con ogni probabilità rappresenta proprio il telo a scacchiera di questo padiglione cioè una tenda che aveva dei pali laterali verticali e un tetto a spiovente e sotto c'era il defunto e coloro che vegliavano il defunto all'esterno si intravedeva le scene che si vedono sulle pareti vogliono rappresentare in parte quello che avveniva all'esterno della tomba e che si intravedeva attraverso il telo o addirittura dai teli spostati insomma aperti cioè magari c'era solo il tetto e poi le pareti erano diciamo inesistenti e quindi si vedeva cosa avveniva all'esterno quindi in alcuni casi si rappresenta perché poi sono diversi diverse tipologie di rappresentazioni ecco in alcuni casi i giocolieri come in questo caso la tomba dei giocolieri ecco questa è perfetta fermati così quella di prima torna un po' indietro ecco così blocca ecco quasi rappresenta allora i giocolieri con ogni probabilità sono sono i giocolieri appunto che facevano o intrattenevano gli invitati con rappresentazioni sceniche perché in effetti questi invitati tutto il giorno che facevano li dovevano far mangiare perché venivano da lontano gli dovevano offrire ospitalità e poi li intrattenevano cioè il culto diventava attraverso la celebrazione del morto della ricchezza e della ricchezza della sua famiglia che veniva rappresentata proprio con la ricchezza dei di questi giochi insomma questi erano veri e propri spettacoli quindi nella tomba dei giocolieri ci abbiamo sulla parete di fondo una danzatrice ci sta un suonatore di flauto se vedete dietro la danzatrice e poi un altro suonatore è un personaggio seduto sulla sulla destra quello probabilmente potrebbe essere uno dei defunti sulla parete a destra quella lunga a destra ci sono altri danzatori probabilmente anche personaggi della famiglia come potrebbe la donna potrebbe essere una danzatrice ma anche magari la moglie o una congiunta del defunto ecco a sinistra sulla parete sinistra invece abbiamo probabilmente la rappresentazione del defunto che è il personaggio col bastone poi c'è un ragazzo c'è uno che corre con un bastone vedete quel bastone ripiegato quello lì è un bastone da caccia veniva utilizzato per nella caccia la lepre per stanarla e per ammazzarla praticamente tutto a sinistra a destra c'è un personaggio in una strana posizione vedete sta piegato si guarda indietro si guarda indietro e poi si vede una cosina che una una macchietta che scende quella effettivamente è è stato dato per certo è è proprio il personaggio che sta defecando cioè sta proprio passatemi il termine perché comunque è scritto anche sui libri in questo modo sta defecando in faccia alla morte e c'è anche scritto il nome una scritta c'è scritto Erakanasa probabilmente questo è un servo cioè questa questa cosa comunque di 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 defecare comunque la fanno fare un servo il nome sembra che sia di un servo quindi bisogna farlo bisogna rappresentarlo non ci si vergogna di metterlo però comunque questa cosa forse è un po' ancora sentita come degradante forse come come per noi ancora adesso e lo fanno fare a un servo ecco avanti fantastico veramente valla quanti segreti scopriamo veramente grazie a questo è frutto di studi degli ateloscologi che poi sono teorie magari ce ne sono altre più a cui si dà più credito io seguo quella di delle interpretazioni che venivano fatte all'università quando andavo io a suo tempo qui ci sono i vari danzatrici ecco membri della famiglia sì probabilmente appunto questa più riccamente vestita è un membro della famiglia non so se è defunto oppure probabilmente quello al centro è un altro defunto vedete quello in mezzo alle piante e quell'intorno gli rendono omaggio lo salutano sì che poi questo Francesco questo personaggio è uno di quelli più rovinati della tomba effettivamente ho dovuto lavorarci di più ho immaginato un po' che viso no no ma è verosimile perché la 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 scansione la la disposizione degli spazi dei personaggi è fatta in modo che il personaggio principale sta messo al centro e in genere e quelli intorno che gli rendono omaggio ti indicano che con ogni probabilità è uno dei committenti uno dei personaggi principali ecco questo è un lavoro un bel lavoro fatto da Marco per far capire perché la tomba è molto rovinata anche se dà tutti gli indizi molti indizi per ricostruirla però è un bel modo per qui abbiamo la tomba dei leopardi ecco questa è la tomba dei leopardi questa è una delle più famose questa gli alunni mi hanno detto dice ma Francesco ce la deve spiegare questa tomba dei leopardi un po' senso è una di noi che conosco più la tomba dei leopardi rappresenta appunto come prima i musici vedete qui ecco che Marco ha sistemato ecco qui però fermati perché se no puoi tornare un po' indietro sì ecco allora tutto a destra si vede un vaso su un tavolino vedete e quindi c'è una festa quel vaso contiene del vino quello è un cratere per vino che presenziava sempre nelle festività più importanti e veniva distribuito agli invitati ecco i musici qui sono al completo perché ci sono qui si ripetono le figure ma probabilmente era così quindi abbiamo il suonatore di una sorta di lira no? sì di cetra anzi e un altro che suona il doppio flauto alla greca come i greci e poi uno che tutto a sinistra tiene una coppa bassa un achilix che contiene il vino probabilmente preso da questo vasone all'inizio ecco andiamo spostiamoci sull'altro sull'altra parete ecco questa è sempre una parete laterale dall'altra parte e qui c'è un corteo di di personaggi vedete come l'altra tomba perché grossomodo il periodo è lo stesso qui stiamo all'inizio del quinto secolo sono inframezzate da da pianticelle da piccoli alberi che vogliono significare appunto che stiamo fuori del padiglione siamo all'aperto quindi che queste rappresentazioni avvenivano nell'ambiente anche perché è importante dire che gli etruschi in quel periodo ma tutte le popolazioni di quel periodo in casa ci stavano pochissimo cioè le stanze non erano luminose e adatte per viverci erano la maggior parte erano dei cubicoli privi di finestre che servivano per dormirci c'era qualche c'era la stanza dei banchetti che era il triclinio che infatti era aperta verso il cortile interno della casa ed era adatta per poter stare a fare convivio con gli invitati con ogni probabilità invece queste cose funerarie avvenivano all'aperto proprio con questi padiglioni ecco fermati qua fermo ecco sulla parete di fondo sono rappresentati appunto i musici intrattenevano queste persone che sono sulla parete di fondo quindi la parete principale perché entrando ti trovi quella davanti dove ci sono i personaggi principali quindi gli appartenenti alla famiglia e i loro convitati e qui rappresentato un tipico banchetto che come sapete avveniva sdraiato e sdraiati sulla cline cline sarebbe il letto da cline triclinio perché ce n'erano almeno tre poi potevano essere di più però il numero minimo erano tre si mettevano diciamo affiancati a formare una U ecco uno di testa e due di lato e lì c'erano gli invitati e facevano il banchetto e bevevano il vino ed era il massimo momento di socialità sia nel mondo greco che in quello etrusco ecco gli etruschi copiarono molto moltissimo le usanze che provenivano dalla Grecia per vari motivi il motivo principale è che i greci portarono alle popolazioni italiche tantissime novità interessanti un modo migliore di vivere la vita e soprattutto bellezza vedete i vasi greci che sono che Marco ha rappresentato all'interno della tomba quelli erano usati anche in vita durante la vita proprio per allo stesso modo dei greci questi sono vasi da vino vasi non funerari ma vasi destinati al convivio che poi se li portano nella tomba perché era il proprietario se li portava dietro e poi altri ne mettevano li mettevano a corredo per testimoniare la ricchezza della famiglia però quelli erano realmente utilizzati in vita in questi banchetti veniano sfoggiati durante questi banchetti per sottolineare il prestigio e la ricchezza della famiglia che invitava gli ospiti questi vasi quindi servivano principalmente per bere vino quindi per copiavano il simposio greco praticamente e e per mangiare quindi ci sono noi nelle tombe troviamo l'attrezzatura per il bere ma anche per il mangiare per il mangiare troviamo spiedi calderoni di bronzo per fare il brodo per cuocere la carne per per accompagnare cibi per accompagnare il la grande bevuta di vino che portava spesso a ubriacarsi in maniera anche molesta certo certo Francesco no fantastico stasera veramente ci hai dato una delucidazione su queste tombe stratosferica e a questo punto ci avviamo verso il termine di questo streaming però è doveroso dedicare la parte finale a Roma però a Roma ecco vista nel periodo etrusco nel senso questa sera tra le curiosità che ho certamente ce ne sono diverse ecco curiosità in generale che ci puoi dire riguardo alla Roma etrusca curiosità in generale sul ruolo che ha avuto Cerveteri secondo te nello sviluppo e nella storia poi nelle conseguenze di ciò che è stato poi Roma per tutti noi e poi alla fine andiamo nel particolare se ci vuoi magari illustrare alcuni punti di contatto tra il Campidoglio e nello specifico il Tempio di Giove Capitolino e il Tempio B di Pirgi riguardo ha alcune peculiarità legate proprio alle maestranze coinvolte nella realizzazione di queste opere ecco ora Marco ed io siamo accomunati dal diciamo dalle origini ceretane cerveterane della nostra passione per l'archeologia e Cerveteri non può passare inosservato come tesoro immenso dell'archeologia non solo italiana ma mondiale se ne sono accorti da poco da pochi anni attribuendo giustamente lo status di monumento dell'UNESCO Cerveteri è un luogo eccezionale in tutto il Mediterraneo io torno sempre a parlare del Mediterraneo perché è un metro per misurare non a livello locale ma a livello di tutto il mondo antico è appunto l'importanza della civiltà etrusca e in particolare delle città dell'Etruria meridionale prima parlavamo di Tarquinia ma probabilmente Cerveteri era più di Tarquinia lo testimoniano le numerosissime importantissime tombe che ci sono rimaste che sono già nel settimo secolo anticristo nel sesto di numerosissime ricchissime e sono probabilmente la testimonianza più veramente indiscutibile per poter sostenere Cerveteri era popolosissima e ricchissima una delle metropoli per il settimo e sesto secolo più importanti del mondo antico questo ce ne dobbiamo rendere conto per fortuna pian piano questa cosa sta diventando diciamo una conoscenza condivisa cominciamo a capirlo un po' tutti e anche gli abitanti per fortuna Cerveteri insieme sicuramente per la sua importanza ebbe a che fare con la vicina città di Roma come saprete assurse il ruolo di di città importantissima con i Tarquini con i re Tarquini quindi Tarquinio Prisco poi Servio Tulli e dopo Tarquinio il Superbo questi sono i cosiddetti re ruschi perché la tradizione ha indicato in Tarquinio Prisco il re che aveva origine dall'antica città di Tarquinio ma era di origine greca addirittura di stirpe regale che proveniva la sua stirpe dalla città di Corinto ecco quindi Roma ebbe un re addirittura di origine greca che passò attraverso l'Etruria fisicamente attraversò il territorio di Cerveteri prima di arrivare insediarsi con la sua progenie a Roma e poi regnare per tre generazioni ecco la ricchezza di Cerveteri era sicuramente maggiore di quella di Roma ma Roma comunque si sviluppò velocemente nel punto con i Tarquini ebbe un espoir probabilmente fu proprio l'apporto della civiltà e della ricchezza etrusca che determinò la vera e propria nascita della città prima si può dire che era una cittadina con i Tarquini una città importantissima di fatto una città etrusca si può dire civiltà per per politica anche mentre con Veio si ebbe sicuramente come dicono le fonti un rapporto conflittuale sin dall'inizio Veio e Roma entrarono subito in condizione scontri violentissimi che portarono come sapete alla distruzione di Veio da parte di Roma già all'inizio del V secolo quindi è molto precoce Roma stabilì quindi anche sulla ripa etrusca dall'altra parte attraverso il territorio di Veio e sta relativamente quieta e buona non diciamo convivendo probabilmente costretta alla potenza della vicina Cerveteri che era evidentemente molto più forte di Veio i Tarquini e i Romani si sviluppano verso il Lazio Meridionale e velocemente riescono a controllare praticamente quasi tutto il Lazio Meridionale è una cosa incredibile perché poi dopo nell'età repubblicana cioè caduti i Tarquini invece non riuscirono a mantenere il potere e decaddero in qualche modo come potenze si ritirarono persero tutto quel diciamo quel potere politico che avevano sul Lazio Cerveteri evidentemente in quel periodo là aveva anche una guida importante e conosciamo tra questi Tefari Velianas che era il re Tiranno probabilmente Tiranno appunto per fare un parallelo col mondo greco che aveva in questi regnanti forse dispotici e comunque in competizione con l'oligarchia probabilmente aveva queste figure diciamo emergenti Roma appunto aveva i Tarquini e Cerveteri c'era Tefari Velianas è una scoperta importantissima quella che il nome e l'esistenza di questo regnante che abbiamo attraverso i templi di Pirgi perché è stato trovato appunto un'iscrizione sulle lamine famose lamine d'oro che erano affisse su sulle porte dei due templi di Pirgi ecco Pirgi venne probabilmente dedicato l'area sacra proprio da questo da questo regnante forse anche da qualcun altro come anche avvenne da parte dei Tarquini che si tramandavano diciamo di re in re queste costruzioni che duravano anni ecco la cosa interessante che accennava Marco prima è che appunto Pirgi ci dà una prova di collegamento tra il mondo romano e quello etrusco proprio attraverso i tempi che come dicevamo prima su Tarquini erano i luoghi che esprimevano al meglio molti significati della città ecco attraverso i templi di Pirgi abbiamo scoperto negli ultimi negli ultimissimi anni che il tempio principale di Roma cioè il tempio di Giochi ottimo massimo che si trovava sul Campidoglio ed era il tempio più importante dei romani lo è sempre stato e rimarrà fino alla fine il tempio maggiore ecco il tempio costruito da Tarquinio Pris e Tarquinio il supermo è praticamente alle decorazioni realizzate probabilmente dalle stesse maestranze che fecero i templi di Giochi questo lo possiamo affermare perché le decorazioni che sono state trovate in un luogo nei due luoghi sono sono uguali si molto simili quindi a parte Francesco uno dei due tempi era stato commissionato proprio da Tefari Melianas e quindi c'è un parà diciamo è parallela la storia è molto simile perché il tempio principale di Roma venne dedicato insieme ad altri ovviamente però dal re dal re Tarquinio Tarquinio Prisco e Tarquinio Superbo il figlio e lo stesso la stessa meccanica si registra a Cerveteri e la cosa appunto interessante è che appunto ambe due utilizzarono gli stessi moduli le stesse decorazioni le stesse maestranze con ogni probabilità quindi il rapporto era estremamente cioè adesso dico una cosa che forse è esagerata ma probabilmente non prima di verità il voler utilizzare simili decorazioni simili templi fatti allo stesso modo con ogni probabilità serviva per indicare una comunanza tra le due realtà politiche cioè quindi esprimere proprio tangibilmente un rapporto che esisteva tra le comunità quindi è un po' forse eccessivo però sappiamo ad esempio Veio che voleva invece ben distinguersi dalla nemica ha uno stile completamente diverso può essere un caso o forse no assolutamente beh Francesco guarda veramente questa sera abbiamo scoperto tante 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 cose che non sapevamo tante cose approfondite tante cose studiate riviste proprio in questo io ti ho seguito come uno studente universitario perché veramente questa sera è stata una lezione accademica e ho immagazzinato veramente tutto quello che hai detto abbiamo fatto un viaggio nei secoli che ci ha veramente attraversato l'anima e quindi io ovviamente questa sera vorrei concludere con una domanda ecco un po' più crepuscolare diciamo che ti riporta un po' indietro nel tempo e visto che insomma molte di queste domande sono anche indotte dal confronto fatto con gli alunni no ma tu ecco che ricordo hai di di Francesco studente beh ho accennato prima un po' un po' strano perché sicuramente l'ambiente mi ha mi ha indirizzato mi ha mi ha stimolato per prendere determinate strade come lo è per tutti in effetti ma l'essere l'essere capitato in luoghi situazioni e aver incontrato determinate persone mi ha segnato in diciamo in maniera netta verso il mondo diciamo archeologico della ricostruzione soprattutto più o meno credo che questo ci accomuni insomma io e Marco abbiamo qualcosa in comune sicuramente abbiamo percorso strade diverse ma l'esito la voglia di di capire attraverso la ricostruzione la necessità di impersonare in qualche modo la storia certo avviene ha raggiunto gli stessi per strade diverse comunque esiti simili infatti eventualmente e poi si sono incontrati e felicemente incontrati e si incontreranno in futuro perché veramente per me è un piacere e un onore collaborare con una persona così preparata e così appassionata veramente Francesco io veramente non so come come ringraziarti perché questa sera abbiamo fatto un viaggio nel tempo incredibile e e credo che veramente le persone che non hanno visto questo streaming eh lo apprezzeranno e lo apprezzeranno nel tempo perché quello che si è riuscito a fare questa sera è stato quello veramente di creare una un'esperienza coinvolgente che ci ha fatto rivivere la storia con le tue opere d'arte con la tua esperienza e eh con il tuo sapere io ti ringrazio eh ti saluto e veramente grazie infinite per questo spazio che ci hai concesso grazie a voi e arrivederci ci spero arrivederci eh buonasera a tutti e vi ricordo che eh presto uscirà il mio nuovo lavoro 3D sul Circo Massimo e se lo vedrete rappresentato in un certo modo è grazie anche veramente agli abili e preziosi consigli di Francesco Galluccio buona serata a tutti buonasera ciao 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 ciao